Aida, amore, ascolta questo pensiero che ho scritto per te, è una cosa semplice. Si titola Ad Aida. Allora, Aida, rimembre ancora quel tempo della tua vita mortale quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, poi va avanti. Che ne dici? Bella è bella, ma è un po' antica, no? L'ho scritta oggi.